Penny, riesci a farlo? Lo riesci a far partire subito? Parto? Io sono già in grado. È partito? Guarda, come è. Sì, sì. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie. Grazie. Vi prego di accomodarvi, invito la stampa ad uscire, grazie. Ma non la fanno, non lo harà diretta, quindi, hanno detto di no prima. No, siamo in diretta. Buongiorno a tutti, grazie di esserti. Ringraziamo l'amministrazione di Paragliaro per aver gestitato, ringraziamo i parlamentari, le famiglie, le associazioni, i cittadini. Io farei accomodare il Ministro Buonafede, lo ringraziamo per essere qua con noi, il Ministro della Giustizia, grazie mille. Purtroppo il Ministro Di Maio ha avuto un impegno istituzionale, quindi oggi non sarà con noi. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Come sapete, a Roma, diciamo, si sta discutendo tanto in queste ore, e quindi non è stato possibile venire per il Vice Premier Di Maio. Ci tenevamo comunque a rispettare l'impegno, quindi almeno ieri sera parlavamo e abbiamo deciso che fosse giusto, quanto meno che uno tra noi due venisse qui per parlare con voi e spiegarvi quelle che sono le nostre intenzioni. Io ho parlato anche con i sindaci della Valdenza, gli ho già spiegato quale sarà il nostro approccio e cosa vogliamo fare. Come voi sapete, io due settimane fa circa ho costituito una squadra speciale per la protezione dei minori, perché a questo punto, chiariamo un punto che è importantissimo, io sono il Ministro della Giustizia e non posso commentare casi che sono sotto oggetto di valutazione della magistratura. Detto questo, quindi con piena fiducia nell'autonomia e nell'indipendenza della magistratura e nella capacità della magistratura di far luce su tutto quello che è accaduto, e da fronte se adesso parliamo di qualcosa che è accaduto è perché ci sono state forse dell'ordine magistrati che sulle varie segnalazioni dell'UCEPRO si sono attivati e hanno acceso un faro su qualcosa che era nel buio. Quindi loro continuano il loro lavoro. Dopodiché io, come Ministro della Giustizia, ho sentito il dovere di avviare un gruppo di lavoro per questa squadra speciale di protezione dei minori, che sostanzialmente sulla base del campanello di allarme gravissimo che è arrivato da questa zona, sulla base di questo noi possiamo partire per cercare di fare in modo che certi fatti non si verifichino mai più. E non dobbiamo parlare soltanto della valenza, dobbiamo parlare di vita Italia perché purtroppo c'è un sistema. Vi dico, piano piano sto cominciando a elaborare una mia idea studiando perché secondo me non è con le parole che si risolvano le cose e non è con i farò. Io sono venuto qui adesso per parlarti di qualcosa che stiamo già facendo, che è già realtà. Mentre io sto parlando con voi c'è la squadra speciale che lavora e sta lavorando in queste ore a fare il monitoraggio. E allora la mia idea è che il nostro sistema più o meno come modello generale in astratto reggerete anche. Il problema è che poi nella pratica accade tante volte che o perché ci sono mancanze infrastrutturali perché dobbiamo dirci anche questo e lo Stato si deve assumere anche la responsabilità di chiedere scusa per i pochi investimenti che ha fatto nel corso degli anni su tutto il servizio sociale. Perché dobbiamo dirci che ci sono operatori del servizio sociale onesti sul nostro territorio che però in una giornata devono occuparsi di tantissime situazioni perché sono pochissimi. E capita che c'è quello col conflitto di interessi, quello col dolo, quello... Non ci sono dubbi, in ogni categoria ci sono delle mele marce. Però c'è anche quello onesto che viene, che può andare dallo Stato e dirgli scusa io voglio lavorare onestamente ma tu mi stai mettendo in condizioni di lavorare come si deve? Oppure questo settore lo è lasciato un po' lì in ombra e non te ne sei occupato? Ecco, quindi il primo obiettivo che dobbiamo avere è di fare investimenti per avere risorse, per avere più persone e per consentire a tutte le persone oneste che lavorano in un settore così delicato nell'affido dei minori di poter lavorare nel migliore dei modi. Questo è il primo punto. Secondo, il sistema dell'affido è un sistema che... degli affidi è un sistema che porta dentro tante competenze. C'è lo psicologo, c'è l'operatore del servizio sociale, c'è il magistrato, ci sono le forze dell'ordine. Poi cosa succede? Che sempre quel percorso è diviso in parte di competenza nazionale, ma tante situazioni, tante parti di quella gestione è di livello comunale o in unità dei comuni o per certi versi a livello regionale. Questo spezzettamento di competenze a livello nazionale e nei vari livelli locali e poi lo spezzettamento di competenze tra magistrato, operatore del sociale, eccetera, ha creato una situazione per cui tutto è diviso come se fosse a compartimenti stati e nel passaggio da un compartimento all'altro magari perdiamo la protezione dei bambini. Allora quello che ho voluto fare è dire basta, cioè d'ora in poi non è che io sono il ministro della giustizia e mi faccio gli affari del ministro della giustizia, poi quell'altro si fa gli affari che sono di sua competenza, poi quell'altro si occupa di una cosa. Ora io mi siedo a un tavolo e questo è quello che ho fatto con la squadra speciale, metto dentro tutte le competenze, comincio ad avviare una raccolta dati omogenea su tutto il territorio nazionale che permette allo Stato di avere un quadro completo di quello che accade e comincio a diventare come ministro della giustizia un punto di riferimento anche per ciò che non è di mia competenza e magari mi arriva come segnale e io a quel punto chiamo la ministra Lotatelli con cui ho già avviato un percorso virtuosissimo da parte sua, c'è veramente grande determinazione su questo lavoro, è la ministra della famiglia, allora ci incontriamo e ne parliamo, però deve essere tutto seguito, lo Stato non può nascondersi più dietro un no, questa è competenza di uno e questa è competenza dell'altro e poi il problema non si affronta mai. Io da ora in poi voglio affrontare il problema, voglio uscire da qualsiasi polemica perché adesso è il momento di lavorare e voglio lavorare e il primo modo per me di fare il mio lavoro è ascoltare i cittadini e garantirgli vicinanza, questo tramite i vari parlamentari del territorio ma io come ministro ho il dovere di stare vicino alle persone ed è questo quello che ho voluto fare stamattina, venire qui, dare a tutti voi la mia vicinanza e dirvi che con questa squadra si avvia un percorso che anche di condivisione, ci saranno anche le audizioni ovviamente di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti ma ci saranno anche le associazioni che potranno esprimere la loro opinione perché dalla realtà che hanno le associazioni che si fanno individuare un problema che magari da Roma o dalle istituzioni non si vede come invece andrebbe visto. Io vi dico, probabilmente già lo sapete perché maggiormente siete tutti informati però ci tenevo a dirvi qual è la composizione della squadra che ho creato al ministero A parte che qui oltre ad essere presente il sottosegretario Ferraresi non cito i parlamentari che voi conoscete benissimo e che sono presenti sul territorio per quanto riguarda il ministero che per me rappresentano un punto di riferimento fondamentale però vi dico che abbiamo voluto dare un segnale in più perché c'è anche la vicepresidente della camera Spadoni c'è il sottosegretario Ferraresi, il sottosegretario alla giustizia, c'è il mio capo di gabinetto che è l'organo di vertice, il dottor Fulvio Baldi, che è l'organo di vertice proprio di tutta l'amministrazione del ministero ho voluto che ci fosse una partecipazione che desse a tutti voi il segnale dell'importanza che stiamo dando a questo settore così importante perché il bene più prezioso di uno stato sono i bambini perché i bambini sono le future generazioni che faranno la nostra società tra 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni noi dobbiamo puntare sul futuro e non si può parlare di futuro se non parliamo del risultato della base e delle fondamenta il futuro cioè i nostri bambini, questo ve lo dico da padre e da ministro perché per me è l'obiettivo principale, io a me non me ne frega niente, le polemiche politiche, quelle passano però il futuro è il futuro è il futuro è il futuro nella squadra speciale, oltre ad essere presenti, praticamente tutti i capi di partimento del ministero perché c'è quello che raccoglie i dati, quello che si occupa dell'infrastruttura, quello che si occupa dei minori, eccetera sono tutti presenti e sono presenti anche le direzioni generali che si occupano di portare avanti per esempio la raccolta di dati a livello statistico perché dai numeri a volte si riesce a individuare, intercettare anche l'anomalia io ho voluto che ci fossero tutte le competenze del ministero, oltre a loro ci sono anche persone esterne che ripeto rappresentano le varie competenze ma non pensate che il lavoro sia solo un lavoro delle persone che vi indicherò perché io vedo un lavoro di squadra in cui ci saranno anche le associazioni quando verranno udite sarà un lavoro di squadra che andrà oltre i singoli componenti della squadra ad ogni modo è presente anche il presidente dell'ordine degli assistenti sociali, il presidente dell'ordine degli psicologi il vicepresidente del consiglio nazionale forense, il presidente dell'associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia un membro designato dall'associazione nazionale dei magistrati ed è anche presente il dottor Jacopo Mazzetti che è commissario straordinario del forteto ho voluto che a voi, non so se voi conoscete la vicenda del forteto è una vicenda che è il primo grande forse campanello dall'arbre tra l'altro lì non possiamo nemmeno parlare di inchieste che sono oggetto di valutazione della magistratura perché già la magistratura tutto quello che si doveva dire lo ha detto ed è venuto fuori accertato dalla magistratura un quadro di orrori che è stato perpetrato nel corso degli anni nei confronti di bambini nel corso dei decenni perché parliamo di bambini che oggi sono adulti noi come governo io avevo provato a presentare l'avamo presentato anzi tutte le forze dell'opposizione nella scorsa legislatura una mozione per procedere al commissariamento del forteto purtroppo quella commissione non venne accolta dall'allora governo mi piace dirvi che in pochi mesi dall'insediamento del governo noi l'anno scorso abbiamo immediatamente commissariato l'ha fatto proprio il ministro Di Maio ha commissariato il forteto e oggi il forteto è una realtà economica che ha completamente archiviato il passato di orrori che si era verificato chiaramente io non sono qui sono qui con una cartellina per lavorare non sono qui con una bacchetta magica e non prometterò mai a nessuno soluzioni facili né tantomeno a chi di voi ha subito un dolore che sarà credo impossibile rimarginare nel futuro però vi dico che ce la metto tutta questa è la promessa che vi faccio ci sto già lavorando e continuerò a lavorarci ci sarà il mio impegno totale ogni giorno all'interno del ministro io non so adesso come funziona ascoltiamo la situazione grazie mille ministro Buonaffese un tema che abbiamo molto avuto adesso daremo la parola alle associazioni domande non è questione di indemocrazia c'è una lista lunghissima di persone soprattutto il ministro è qua per ascoltare i genitori e le testimonianze dei genitori eh allora dobbiamo sentire va bene comunque eh va bene alla fine la inseriamo nelle mamme va bene grazie allora adesso scordiamo Ovaldo Valentini presidente dei genitori separati no guarda non lo so ah vedi devi scendere devi andare là un po' di zio grazie 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 il ministro sperando che inizi un discorso nuovo e sono da 22 anni il presidente nazionale dell'associazione cioè noi siamo attualmente il presidente di un'associazione che da 22 anni a livello nazionale è nata per tutelare i minori nelle situazioni per garantire la digenitorialità ai minori e la co-genitorialità noi siamo scettici sulle condizioni è un po' come i vari protocolli del tribunale insieme agli avvocati fanno escludendo categoricamente i genitori bravo 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 la stessa cosa dai nomi che avevo già seguito mi sembra che stia succedendo con questa squadra io credo che sarebbe opportuno che ci siano i rappresentanti dei genitori o qualche genitore bravo bravo i problemi dei minori mi ricordo con lei che sui minori non si può fare con le dite ma nemmeno si può fare si può ignorare gli abusi nel 2000 che potete tutti andare a vedere su diritto.it noi abbiamo scritto una carta dei diritti nelle separazioni e dove si diceva tante cose che poi abbiamo ritrovato nella legge 54 quella legge che non è stata mai voluta attuale fino in fondo perché era abbastanza chiara e oggi si riparla di rivedere il condiviso che è un più negamento di quella legge conosco molto bene chi la proposta perché io sono di Perugia quindi conosco bene però qual è il discorso noi abbiamo messo in evidenza in tutti questi anni la situazione dei minori perché nei tribunali si parla di tutto meno che dei minori si parte il discorso dei genitori ma non si comprende che si garantisce che i minori sono i primi protagonisti da tutelare delle separazioni perché sono i cittadini del domande non lo diventiamo quando percepiscono poi di justizia subita ovviamente ci saranno di tutto non sono d'accordo signor Ministro sulla buona fede scusate dei giudici bravo 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 noi dal 2000 enunciamo e abbiamo scritti ci sono articoli da scoprire sui tribunali nazionali la inefficienza dei tribunali dei minori soprattutto gli abusi che vengono fatti sulla gestione dei minori nelle separazioni i minori appartengono ai genitori bravo 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 ho sempre fatto una battaglia su questo comicello recentemente un onorevole giudice del comunale di Perugia della Corte d'Arvello a un convegno sui minori c'è risposto che i genitori non sono imparziali e che i figli appartengono devono essere tutelati e fatti dai servizi sociali servizi sociali fondamentalmente quando un giudice dice queste cose si debba consigliare a fare la valigetta e legarsi a trovere non a stare nelle tavole di città bravo 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 questi fatti che puntò con noi partiamo da una situazione difficile che poi è vero che non è da nota perché io ho letto un libro che mi ha fatto che ti annunciava che ti fatti su queste zone e noi siamo partiti per fare un certo discurso noi dobbiamo stendere qui a tutta l'Italia all'Italia ma sul funzionamento dei servizi sociali perché l'anello delle cose o per modo di dire che poi sono arroganti sono proprio i segnali noi come associazione come associazione bravo troppo potere nel 2016 abbiamo stilato un che poi le ho dato in copia la sua un regolamento che non può essere locale perché se no ognuno sta a modo suo come i protocolli sulle spese sui mantenimenti ognuno se li mette al di fuori di quello che è bravo e questo regolamento dovrebbe diventare un punto di battaglia del ministero della giustizia assieme al ministero per la pubblica e l'amministrazione lei sa che i genitori non hanno accesso ai fascicoli di servizi sostanzi nonostante le richieste bravo 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 il regolamento il regolamento il regolamento deve essere come punto di partenza dopo questi intriciosi fatti noi abbiamo iniziato a fare degli esposti alle procure delle repubbliche sia presso il tribunale ordinario che presso la corte dei conti perché questi problemi hanno un grosso risvolto economico sui soldi dei cittadini bravo e poi l'abbiamo fatto ai presidenti dei tribunali e così via per chiedere una indagine sui servizi sociali sulla gestione di queste comunità perché nelle comunità ci devono stare a tempo limitato e adesso diventa tempo eterno bravo 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 noi siamo disponibili tra l'altro io ufficialmente ho chiesto un incontro con lei tenendo conto di tecniche per illustrare in modo dettagliato questo discorso voi trovate queste cose sul ci sono i colleghi anche all'ingresso che io sono qui anche e questo noi vogliamo che ritorni la centralità dei minori dei minori e che soprattutto il codice penale non sia una parzelletta perché spesso io parlo di risparrezioni e dei minori è una parzelletta che la trasparenza sia garantita sia volita la discrezione della città i genitori non contano nulla bravo 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 Ci sono degli ottimi giudici, ci sono riconosciati, però la stragrande maggioranza sono giudici che operano con schemi di altri venti, scusate, e di altri cosiddetti. Giusto, giusto, è vero, no, ci sono degli ottimi giudici, però poi siamo anche disponibili a venire nel dibattito pubblico, e comunque siamo disponibili, Ministro, a collaborare, a grazie, perché facciamo quei italiani. Buongiorno a tutti, ringrazio per la possibilità di parlare qui per voi, sicuramente sono in un ruolo comodo, perché fa parte di una fondazione che da più di vent'anni si occupa di tutela i minori, mettendo in atto progetti che non sono solo finalizzati all'intervento di minori dalle famiglie d'origine, non sono solo finalizzati all'affido di minori, abbiamo un progetto affido, ma un ente che è finalizzato a mettere in atto gli interventi per prevenire il portato della famiglia di minori, da indagare, albero della vita segnalo, albero della vita segnalo. Io sono mamma, so che qui ci sono tanti cittori a cui i figli sono stati fatti in modo dovuto direttimo, solo il pensiero, essendo mamma di questo, mi vedo che mi trema la voce, quindi mi piace, guarda, tutti con noi, eh sì, eh, trema la voce, eh sì, eh, dove eravate quando noi eravamo disperate, io se volete, se volete io porto il nostro pubblico, se può essere utile, 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 sono qui, mi rendo conto che ho visto l'attacco e il coraggio, cerco di portare il nostro pubblico a noi, sì, sì, vanno abolite tutte queste cose, vanno abolite tutte queste cose, i bambini, scusate, i bambini che sono allontanati da delle loro famiglie, legittimamente, non siete realmente cosci, ben pochi non so, qui sicuramente ci sono, scusate, io vorrei portare veramente, vorrei portare, cercare di portare un contributo di sempre, no, non serve, non serve, non serve, non ci serve, scusate, scusate, siamo qui a fare un incostro, noi, io sono d'accordo sul fatto che c'è un sistema che funziona male, l'abbiamo detto, abbiamo detto che questo deve essere il punto di partenza, ora, è fondamentale che tutte le persone che lavorano in questo settore, da magistrati a psicologi, a quelli che lavorano in tutto il sociale, anche le forze dell'ordine, tutte le persone devono poter esprimere il loro punto di vista, poi si prenderanno le decisioni che si deve prendere, però da qui, se cominciamo a fare che alcuni sono contro altri, non si va da nessuna parte, perché non è che possiamo pensare, lo dico veramente, io comprendo tutta la rabbia, però ci mancherebbe, non è una rabbia che si può superare con le parole, né tantomeno voglio in qualche modo calmare quella rabbia perché è impossibile, dico semplicemente, quando si parla di figli si parla di figli, è inutile dire altro, però vi dico che ho la necessità di poter ascoltare tutti, perché in ogni categoria noi dobbiamo prendere la parte buona che c'è e andare avanti con la parte buona che c'è, poi ciascuno di noi avrà la possibilità di fare il figlio, eppure non l'hanno sbroccata, l'abbiamo sbroccata poveretta, è difficile per me poter stare qua, perché è sicuramente che gliel'ha mandata, bella sostanzione, i suoi pregi e i suoi difetti, tantissimi, e però devo poter ascoltare, vi prego, vi prego questa cortesia, vi chiedo di essere brevi perché posso ascoltare un maggior po' la diversità, vi chiedo. Per tentare di segnalare che siamo qui per questo, quello che dal nostro punto di vista non funziona, o potrebbe funzionare meglio, per evitare che accadano queste situazioni per cui siamo qui oggi, che sono una parte, io vorrei sottolineare questo, rispetto a tutti gli allontanamenti che vengono fatti, perché ci sono situazioni di gravissimo pregiudizio quando poi succedono altri eventi dove il genitore, il figlio, il diciato, dove erano tutti i sociali in quella stazione, quindi ricordiamoci che ci sono tante situazioni in cui gli allontanamenti vengono legittimamente, non perché c'è un disegnino, magari, no, notificato da qualcuno per chiedere, perché qui stiamo parlando di un'associazione, è successo quello che è successo, qui stiamo parlando di un'associazione in cui gli allontanamenti che vengono, i minori devono essere tutte no, probabilmente i cittadini che sono qui non rientrano in questa categoria, noi siamo qui per evitare che succedano queste situazioni, che sono quelle che probabilmente c'è anche la carenza di organico della magistratura, noi abbiamo affatto, siamo convocati dai giudici del Tribunale dei minori, dopo che abbiamo prodotto una serie di relazioni, abbiamo visto, abbiamo notato, se arriviamo lì per giudici che non hanno detto quello che noi abbiamo scritto, quindi, anche se avrò un favore per partire con la tua famiglia d'origine, quindi c'è una questione di giudici che non hanno, oltre alla mala fede, giudici che magari non vogliono entrare nel mezzo, hanno, perché questa cosa che è successa fa pensare, perché l'allontanamento non è base di sociale, l'allontanamento lo fa e è dichiarato da un giudice del Tribunale di minori, posiziona tutte le relazioni, chi gli scrive le relazioni, chi gli scrive le relazioni, chi gli scrive le relazioni, che gli scrive le relazioni, possiamo ascoltare? No, no, perché ci sono, no, no, se ne va da lei, se ne va da lei, lei che titolo ha per dire queste cose? Non c'è scelta di ascoltare? No, no. C'è scicola, c'è, ci sono dei comportamenti del bambino che manifesta problematici in più ambiti, non sto parlando probabilmente delle famiglie che sono qui, quindi un giudice che sceglie di allontanare un bambino della famiglia leggendo un'unica relazione, un unico operatore che si è espresso in questa direzione ovviamente agisce in modo superficiale e legittimo, quindi io lo ho detto, siamo qui per cercare di indicare assolutamente che succederò ancora delle cose dette, però ricordiamoci che c'è un sistema che va migliorato ma che è finalizzato quando se ne è veramente a funzionare in un uomo, ok? Va dove c'è? Dai, 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 dai. Per cercare che succeda quello che è successo, un'ingiustizia inimmaginabile, siamo pronti per poterne parlare insieme. Grazie, grazie, arrivederci. Grazie a tutti dell'allora. Grazie. Grazie Danna N Anna Giuseppina, adesso ci chiamo Carla Corboni della Gabbianella e altri animali. è la signora che è voluta anche la manaccia per il canto mi chiamo Carla Portoni non Carla Portoni e l'associazione la gabbianella e altri animali è l'associazione che nel passato si è fatta forse più di ogni altra perché certe situazioni venissero alla vita con questo libro e altri che ho continuamente cercato di dialogare con chi faceva livelli e per quanto riguardava l'astidamento quello che ho notato è che quelli che non venivano rispettati erano i legami affettivi dei bambini e i bambini venivano trattati come fossero stati fatti alla fine grazie a tutta una serie di impedizioni e di lavori è passata la legge 173 che è quella che dovrebbe garantire il rispetto dei legami affettivi dei bambini ora sono qui prima che arrivasse il ministro ho parlato con varie persone e sono venuta con una famiglia che ha vissuto una gravissima ingiustizia secondo me sarebbe da rivedere il processo e spero sarà visto sulla propria bene ma sono quello che io posso dire è che è passata la legge ma non sono stati rispettati i legami affettivi dei bambini perché più legame affettivo profondo di quello dei bambini con i propri genitori è difficile trovarli a volte peraltro i bambini si legano profondissimamente anche ad altre persone come ben sapete tutti voi quindi il problema è un po' quello che ha detto all'inizio il ministro stesso sulla carta le cose possono anche andare bene nella pratica non vanno bene perché se noi siamo qui a distanza di tanti anni da quando scissi io non posso proteggerti e questo titolo è un urlo è un urlo io posso proteggere è perché c'è questa differenza enorme tra le leggi che prevedono tutta una serie di tutelle per i bambini per le loro famiglie per il loro intorno e la realtà delle cose in cui prevale chi ha il maggior potere sui bambini allora se un tempo io ho letto le cose che succedevano nei termini di mancanza di rispetto dei legami affettivi dei bambini oggi vedendo quello che succede a distanza di nove anni da quando io scrissi questo libro leggo le vicende che mi sono state raccontate quelle più vicine a me tipo quello della famiglia che era con me oggi e quelle che ho sentito in questa sala cercando il ministro sotto un altro punto di vista è un problema di rapporti di potere anzi di abuso spesso volentieri di potere nel senso che se qualcuno sia colpevole si presume e sulla base di questa presunzione di colpevolezza si arriva a delle conclusioni che dovrebbero invece essere prese sulla base di prove inconfutabili perché se è vero che ci sono i genitori che uccidono i figli perché sono in preda a momenti depressivi eccetera 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 è anche vero che ci sono dei genitori che fanno del loro meglio per tenersi ai bambini sono solo difficoltà e magari l'assistente sociale decide che non siano buoni genitori brava brava ci dovrebbero essere i tribunali dei minori le autorità di garanzia ci dovrebbero essere tutta una serie di cose che molto spesso non sono attivate perché Ministro lei vedrà e voi vedrete le risorse che avete riunito che molto spesso delle prove che vanno nel senso opposto a quelle che erano le presunzioni di colpevolezza non sono state prese in considerazione come se quello che contasse alla fine fossero solo i rapporti di costa anziché le prove inconfutabili sulle quali e solo sulle quali i bambini possono essere toglie dei genitori e comunque possono essere spostati dall'ambiente dove vivono nel modo più sereno io vi ringrazio per aver organizzato tutto ciò però quello di cui c'è bisogno adesso mi pare che è proprio di giustizia nessuno vuole nessuno vuole le vendette nessuno vuole cose che passano qui si vuole quello che veramente noi cittadini chiediamo è che sia separato il grano dall'olio che vengono fatte le cose dette senza colpevolizzare l'istituto dell'affidamento che è uno degli istituti più oblativi che esistano che ha salvato il mucchio di bambini ma restituendo a ciascuno ciò di cui c'è bisogno quindi proprio andare a rivedere le cose e fare le cose per bene vi voglio leggere semplicemente due righe proprio due righe so che il tempo è poco no niente non le trovo non le lascio meno queste due righe le davano nel senso le cose le risorse e le ha scritte una persona che adesso è considerato il cattivo dei cattivi non le faccio nemmeno il nome perché vi agitereste però vogliamo giustizia per tutti non che qualcuno che si ribalti la frittata e adesso prima erano tutti colpevoli dopo tutti innocenti no vogliamo le cose fatte bene ma mi pare che siamo orientati in questa direzione quindi grazie a tutti grazie 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 Carlo Corzoni adesso abbiamo un rappresentante del cammino punto or no no non l'acqua non l'acqua non l'acqua grazie allora vorrei dire che la nostra associazione è in azione di una associazione di avvocati che si occupa con gli investimenti minori siamo sul territorio con un sedi sul territorio e riteniamo di avere un'esperienza di 360 gradi che assorbe non solo la nostra ma anche la nostra ma anche vicina quindi riteniamo di avere l'esperienza per poter parlare di questi tipi di procedimenti allora lo scandalo di Bibiano in realtà ha acceso il riflettore su un sistema di tutela dei minorenni e delle famiglie fragili evidentemente è facile prevenire abusi e di contestarli in modo adeguato siamo convinti che la giustizia che riguarda le persone di età minore non sia solo una giustizia di toghi e di ragioni che riguarda il passato e pertanto alla ricerca del soggetto responsabile ma che sia soprattutto volta la ricostruzione la riabilitazione delle relazioni familiari nel migliore interesse di fare il suo invoio bravo gli aspetti critici e io farei su queste questioni estrettamente tecniche che riguardano il sistema giustizia dei minori gli aspetti critici sono un frammentamento della competenza con la registrazione dei riti capitudici con diverse composizioni numerosi temici per il mitere in vari settori di sempre maggiore significatività con sociale in primis ai servizi sociali effetti di effettivo accesso autonome alle minorenne al sistema di risultato l'insufficienza di una normativa processuale civile nell'abito dei procedimenti minorili con conseguente lesione del principio di difesa di tutti i diritti di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti lesione del principio del giusto processo del consacritorio specie dei finitori nei procedimenti delle responsabilità che potestate dinanzi filiali sui caratteristiche faccio un esempio rapidissimo faccio un esempio rapidissimo i tribunali i tribunali comunicano l'avversura del procedimento quando sono iniziativa del pubblico ministero e quindi ci sono famiglie che non sanno di avere un procedimento mandi una circolare scusi mandi una circolare a tutti e così è lunedì il ministro se ne va a mangiare allora mandi il microfono che non si sente niente a volte vengono effettuate vero e proprio storie di pubblici di seri di sereno per rispondere ma dov'era quando avevamo bisogno in ufficio da lei a tutelare i minori a mille euro a mille euro perché l'ho d'accordo con gli assistenti di ciò tra di odio gli altri che c'è degli organi caricati non vengono messi a disposizione del pari che non sono spesso informati dell'autore acquisizione e che spesso devono essere autorizzati per poter vedere quello che sono le valutazioni fatte delle persone che hanno monitorato la famiglia l'utilizzazione massiva ed allargata dei pubblici onorari per la psicologia che non sono turisti ma sono psicologi o operatori sociali e questo comporta una disattenzione diffusa ma assai frequente delle regole di procedura civile poste a garanzia del diritto di difesa e un contenimento strutturale in un senso interapeutico la scuola non viene praticata e spesso i giudici non motivano neanche perché lo scudo e questo contrario anche le convenzioni internazionali che vedono del diritto di minore ad essere sentito con un procedimento che lo riguarda se si scrivono le regole di minore e non incontra nemmeno i giudici i colloqui sono penutili dai servizi sociali prima e poi dal giudice onorario in assenza totale di contraddittorio l'unica traccia sono quei verbali che ne fanno sia i servizi che i giudici onorari non vengono sempre verbalizzate le deduzioni dei difensori che travolta vengono anzi osteggiati dall'esercizio della loro gestione difensiva addirittura aziettivi che si insistono anche trattati dentro di spavolari servizi sociali prima e durante il procedimento escludono nei colloqui con i genitori la presenza dei legali nonostante non vive alcun divieto genitori che interrogati senza spesso comprendere la portata delle loro dichiarazioni poi però verranno utilizzate spesso si trovano sprovvissi di adegare capacità alla gestione della situazione le considerazioni e le valutazioni dei servizi sociali in relazione al tribunale così come i verbali di udienza di giudice generale sono gli strumenti preferenziali per assumere la decisione riguardanti i minori ed è dura molto dura la lotta degli avvocati in un sistema così tanto autoreferenziale concludo velocemente riteniamo che ci sia necessità riteniamo il disaccordo con questo ministro che non sulle carte va bene potrebbe andare ma in realtà sulle carte non va bene per niente occorre una riforma del sistema processuale relativo ai minori e occorre una norma relativa ai servizi sociali che attualmente non c'è se non nella loro funzione di sostegno di supporto che questa è regolamentata o prova la copertura nell'articolo 2-3 della Costituzione ma non c'è nessuna norma che prevede come si devono compattare i servizi sociali nell'ambito dell'affidamento e poi in ultimo i magistrati i magistrati soprattutto del Tribunale dei Modelli come ho detto non manco vedono le parti lasciano spesso dei provvedimenti in bianco dando l'affido ai servizi sociali sempre di tempo sempre di dialogità senza un progetto brava è vero è un progetto che quando le cose funzionano quando avviene deve essere comunque sempre modificabile nel momento in cui la situazione cambia si evolve peggiora o migliora e con dei tempi accettabili per le persone perché ci sono genitori che non hanno la forza e l'energia personale ma proprio perché sono soggetti fragili e vulnerabili ma di piena economica per fare delle battaglie che sono brava brava questo è vero brava grazie mille associazione cammino.org adesso abbiamo un altro avvocato della segreteria nazionale che è un avvocato senza capacità di parlare sarebbe un avvocato triste quindi io la ringrazio certo di essere breve nei punti del possibile so che è un'iniziativa per la cittadinanza ma gli avvocati zambini le mettono dove possono lo dico perché devo renderle grazie perché dove le cose succedono una presenza di un ministro della giudizia che abbia la possibilità di ascolto è una cosa importante lo dico da un po' ciao tutti i giorni a soli la mission siamo a parole a partendo all'ordine degli avvocati di Mosena sono quindi conterranea dell'onorevole Skaia faccio parte del direttivo regionale nazionale che è l'associazione italiana di diritto dei famigliati quindi significa che le questioni familiari di Polizia sono che ascolta con l'importo contrariamente a lei credo e sono d'accordo con la collega che il sistema processuale non funziona che ci sia necessità di intervenire non scendere nel dettaglio tanti altri colleghi tanti magistrati credo che l'abbiano illustrato in dettaglio cosa non va e credo che ciascuno che l'ha vissuto nella sua pelle sappia perfettamente cos'è che non credo che da questo punto di vista perfetto conoscere e studiare il problema quindi perfetto una commissione ministeriale non è che i dati perché solo accertando e studiando si può arrivare a studiare ma nel frattempo che studiano e che taggano davvero con il cuore in mano parte di un avvocato che può magari non sembrare due cose che possono stare insieme bene quindi è urgente procedere a una riforma del sistema processuale minorile e ordinario brava 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 adesso iniziamo ad ascoltare le testimonianze delle famiglie il primo papà e Fabrizio Mamani ok comincia a tirare vai forza Fabrizio speriamo che non si è rimasti andando giù che vero la persona che non so dai 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 signor 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 ed oggi sono qui in veste di portavoce di tutti i papà e le mamme d'Italia di questi recenti scandali che hanno colpito i comuni da Valdezza avvicino al microfono a nessuna fazione politica e a nessuna associazione rappresenterò oggi solo il mio presso dei miei padelli e delle mie sorelle e dei genitori e dei figli microfono microfono la mia non è una storia così eclatante come le tristi vicende di altri genitori vi dino soltanto che ad oggi 8 agosto del 2019 non so dove si trovi mia figlia ma questo credo sia irrilevante se non per il fatto che di mezzo ci sia un affido ai servizi sociali di Ergevilia ed è lì che mi soffermerò sul meccanismo di business che orbita intorno ai minori e sulle competenze o chiamiamole anche incompetenze dei servizi sociali bravo grazie a tutti per la presenza e per la zona che leggiamo i servizi sociali dopo le emanazioni dei provvedimenti d'urgenza da parte del Tribunale Civile ricevono mandato di monitorare la conflittualità tra i genitori ci metteranno un mese a leggere una carta e un altro mese a stabilire il primo incontro in cui spesso e volentieri i minori non saranno mai presenti il nostro primo assistente sociale sarà stato sicuramente un neolaureato inesperto e poco pratico nella gestione delle dinamiche familiari si comincerà poi con i cosiddetti incontri protetti che stranamente i servizi sociali non riusciranno più a gestire per l'eccessivo carico di lavoro vi invito a fare un'ispezione nei poli sociali per capire che c'è meno quota che alle poste e che gli uffici sono vuoti esatto, bravo e calderanno poi l'attestina dei profili genitoriali e le società esterne come loro richiamano abbiamo dovuto poterlo a modo di ascoltarne qualcuna con le educatrici impagate dalle cooperative sociali ed è qui che comincia il business con le cooperative e le onlus che paramollevano tutte relazioni sui genitori nervi e post applicazione di legge la traccia di casa hanno in modo di incassare sull'interdizione del piano incasso i figli per attirare a coppie, amici e case famiglia in giro di vite e sui soldi per cui tutti gli mettono in tasca qualcosa ed è per questo che oggi tutti noi siamo qui tutti noi genitori ovviamente siamo qui a chiedere la revoca di finanziamenti pubblici alle cooperative bravo bravo ma anche sull'immigrazione e sul lavoro basta finanziare la magia perché questa è una magia grazie a tutti grazie a tutti chiediamo inoltre il depotenziamento della macchina dei servizi sociali che si riempiono la bocca di questo termine chiamato conflictualità che è nulla a tepedere con le dinamiche delle ex coppie che è volto a dependare la parte fortemente economica e costante della famiglia dell'uomo per poi ricadersi su quella che dovrebbe essere la parte più utente della fluterata la donna al fine di mettere in moto la macchina dell'affido dei minori alle case famiglie a comprare i riforzati al limite dell'umano per quanto riguarda invece il caso di Bibiano che tutti conosciamo chiediamo l'immediato scioglimento della commissione d'inchiesta opportunamente formulata dopo con esponente del partito democratico al poverso chiediamo quindi il decremento immediato del partito democratico dalla commissione che sicuramente è più impegnato ad organizzare la festa dell'unità che avvenzarà le sofferenze dei minori bravo! bravo! la commissione della legge 403 ovvero prendevo forzato dei minori da strutture pubbliche case o luoghi di vita le famiglie si aiutano, si distruggono bravo! bravo Fabri! la commissione della riconoscimento del reato della violazione parentale le costanne per le false accuse di risarcimento dei danni alle vittime dei sequestri bianchi bravo! una cosa molto importante è il sofferenimento dall'esercizio della formazione da parte del CISMAI che stando a quanto recepito dai casi veleni e angeli demoli sarebbe appunto coinvolto nelle licenze sovracittate appena dette ricordiamo che il CISMAI riceve affondanti finanziamenti pubblici dallo Stato per cui se non fermate il CISMAI vuol dire che siete anche voi complici di un sistema di scambio di esseri umani bravo! non ci sono domande di famiglie non ci sono un modello di business geratico in cui all'avice della struttura c'è sempre qualcuno che lucra con la dignità e cartileria Sarei ministri, noi oggi non siamo qui per creare del ministero, siamo qui perché siamo stufi, perché il caso di Bibiano è uno di altre, sicuramente decine di casi insabbiati in tutta Italia. Non ce l'avete, no? Questa è solo la punta dell'iceberg, una bomba appena scoppiata in un campo molto dedicato per quello del diritto di famiglia, che come ben sappiamo non viene revisionato dagli anni 70. Sicuramente questo intervento sarà la storia di qualcuno di voi, ma non tutti quelli che sono qui, uscirà da qui facendo passerella, ma voglio sperare che questa sia un po' la stanza. Siamo passeremo noi oggi a stare in un'altra doma. Risolvete velocemente il problema ed è quello che vi chiediamo col cuore. Se così non fosse non ci sarà nessuna obiezione, siamo pronti. Il giorno 20 settembre saremo in tanti, poste troppi a scendere in tutte le viaggi italiane. Non a rompere le vetrine, sia ben chiaro. In questo caso ci ha uniti ulteriormente e finalmente siamo massa coesa. Siamo stati censurati da giornali, social e media. Bravo, bravo, bravo. Siamo risorsi e non sapete perché? Perché ci avete tolto i figli ma non ci avete tolto la dignità. Perché la dignità la si perde solo quando si finisce di mettere l'ultimo respiro. Io sono pronta a morire per mia figlia. E come me, tutti i genitori presenti in questo caso. E non è un momento di svolta in cui voi dovete decidere se fare la storia o, come mi disse Sgarbia, la fiducia del governo oppure diventare, come mi disse Sgarbia, la fiducia del governo in nome al frano della politica, un futuro fantastico quanto preme. Quindi supportateci. Bravo Fabri! La privata cittadina ci sto mettendo la faccia a nome di tutti e so peraltro che cosa mi aspetterà da domani e le ritercussioni che subirò. A uso il proverbio della mia vera che è anche la sua, ministro, che dice chi si spaventa del coltello muore ammazzato. Oggi non ho paura di nulla e come 7 milioni di sembrati in Italia che combattono o hanno combattuto nelle aure dei tribunali. Con il vostro soprassedere e rimandare al domani avete rovinato famiglie, generazioni di figli che oggi hanno il terrore di diventare genitori perché vengono considerati soggetti a rischio dopo essere stati seguiti per decenni dal servizio stalker della macchina dei servizi sociali. Noi saremo qui intanto, noi saremo intanto qua ad attendere silenziosi e buoni come sempre con tutto dicendo che oggi per noi genitori è un nuovo anno zero, una data in cui siamo disposti a tutto pur di cambiare le cose. Austico e non intervento. Ecco deciso che in una settimana che possa riportare luce e estremità tutti quei genitori e bambini che oggi si portano in silenzio. Si dovrebbe distribuire intanto nelle gaste durante queste settimane a lottare il posto monico e giro. Luce e bambini. Le mani dai bambini! Bravo! Grazie a tutti. 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 Noi mamme siamo stati mesi da un servizio sociale che non c'è più una pass, una cittoria di tassi. Non lasciandoci più in pace, contestandovi una babysitter, chi non ha una babysitter, ok? Non sono stata d'accordo e ho le registrazioni, perché finché mi hanno letto il decreto abbiamo le registrazioni dove ci sono ancora questi signori, che gli figli devono essere collocati a una famiglia in affido giornaliera. E io ho detto no, perché mia figlia non ha bisogno di un affido. Io ho una babysitter che mi segue, i miei figli da sei anni, ho figli adulti, ho un posto di lavoro. Quindi non ho capito perché questo affido. Allora, io leggo il mio decreto, signor Ministro, io come mamma di tutte le altre mamme, intanto che tornassero, rileggiamo bene tutto e sono d'accordo che la condizione non è fatta da un figli. Che non è stato in grado qui alla sala del consiglio, sia quando c'è stata la valenza, soprattutto sono rimasta male. Noi siamo tutti gli, che siamo distrutte da questi figli, perché c'è allontanamento immediato dei nostri figli. E se io non fossi stata, che le avrebbero arrestate, ma è stata una mamma disperata come loro, senza avere una bellissima vittoria. Nessuno lo avrebbe arrestato, ho due o tre casi da sotto posti. Io voglio stare lontano dal giornalismo, lontano dal giornalismo. All'inizio ci hanno sostenuto per dirti anche su Radio Brun, e poi invece ci hanno infamato un gioco per chiacolato, dicendo che eravamo proprio per il mio vaccino. Vedremo cosa possiamo fare, invece di iniziare a fare il Consiglio Comunità, che loro si erano attaccati qua, ringraziando, soprattutto per sostenere il loro amico Paolo Sindaco Carletti. E a noi neanche una parola, neanche una parola. Al Consiglio Comunale c'è tutti qua, la cosa che hanno saputo dire che noi abbiamo fatto è politica, invece no. Noi abbiamo chiesto di essere, ci siamo fatti sostenuti davvero, ci siamo anni e voluti, ci siamo anni e voluti. Noi, va bene, ma vogliamo giustizia, ce lo chiediamo, perché noi non ci fermiamo. Va bene? Brava Belli! Grazie! Ok, un attento che le voglio dire. Mi vuoi tantissimi? Non sono pesanti, però... Mi scusate, perché avrei tante cose da chiedere. Tempo in tre, e se non... L'ho fatto al centro. Allora... No, no, non ce l'ho quella... Assolutamente, ci mettiamo anche la moglie. Allora, io vi dico subito una cosa. Che i miei figli sono stati sequestrati, non si sa da poco, perché gli spiego una cosa. Se a me e mio figlio me lo sequestrano all'improvviso, me lo rubano, mi ciro no. Lo trovo più, come tutte le altre mamme che è capitato. Noi li diamo da un commissariato, dalla legge, dalla legge, ma quando ci vengono rubati da questi signori? Quando Stato? Perché si chiama Stato, loro si presentano come Stato. A noi ci hanno detto, questi signori, assistenti sociali di 25-26 anni, edutatori, che si permettevano di chiamare a scuola i nostri figli senza dare l'ordine a noi, abbiamo le registrazioni. Ok? Ma ti veniamo a prendere per portarti dalla psicologa. Allora, io voglio dire una cosa. I miei figli sono sequestrati in casa, ok? Hanno finito la scuola, io ho una figlia in Toscana, sono stata sentita, devo rifare un CQ di 90 giorni, perché questo doveva decadere, è un falso. Sono soli di tutte le persone che sono state indagate, ok? Eppure io e i miei figli non li posso portare un giorno a mare, perché se io mi sforzo, anche da qua, andare a Campolo, dalla sorella più grande, mi portano i miei bambini, perché sono sequestrati. A me? Ok? Quindi, io questo non lo trovo giusto. Non lo trovo assolutamente giusto. Noi vogliamo giustizia, come noi e come tutti gli altri. Grazie. Andiamo a Stefania, Stefania è la mamma forse più famosa, quella del video in cui venivano strappati i bambini, con i volontari, e poi quella della copertina di Panorama. Purtroppo salve Ministro, io per due anni sono stata in casa a crescere mia figlia, ma purtroppo quando ti dicono che la legge non c'è, e la legge si ferma perché sei innocente, bisogna persino arrivare a fare le copertine dei giornali, cioè, questo vorrei essere protetta dal mio Stato. No, perché lo Stato mi ha sequestrato, la figlia, senza motivazioni, già state smettite in tribunale, già state portate in corte d'appello, ma così quel rapimento adesso dobbiamo trattare dei sequestratori, perché viene fatto un GTI per una figlia rapita dallo Stato, senza motivazioni. Anzi, la motivazione c'è, il collocamento da otto anni della mia prima figlia di undici anni presso la zia materna. Questo collocamento, sa, per le conoscenze di cari, della zia dura da otto anni. Io sono la madre, la fatta potestà. Siamo nelle carte, le mie figlie sono, come si dice, nel certificato di residenza, nell'estratto di famiglia, siamo. Mia madre, la mia prima figlia, io, la mia prima figlia, e la seconda figlia, tutte insieme, quindi mantiene mia madre, e siamo lì. Cioè, sono sotto il mio Stato di famiglia, sono insieme a lei, questo per la legge. Sotto alla legge c'è questo collocamento della zia, che è stato fatto come un affido legale, deciso da un assistente sociale. Poi però, quando ho conosciuto Marco... Mi chiamo Marco, sono un istruttore su Marco, sono un medico di primo soccorso, e insegno anche l'utilizzo del defibrillatore. Quindi sono una persona normalissima. Ho conosciuto Stefania, e ho semplicemente chiesto Stefania, ma perché non ho le due figlie? Ma l'assistenza sociale non mi ascolta. Ma allora ascolta, mandiamogli un'altra comandata. Non ha risposto. Mandiamogli un'altra? Non ha risposto. Mandiamogli le terza? Non ha risposto. Stefania, guarda, scriviamo a Bologna. E allora abbiamo portato all'ordine degli assistenti a Bologna. Cos'è successo? No, no. Cioè, abbiamo portato una persona che non lavorava davanti al loro ordine, ma quando è tornata a casa ci ha risposto io ho speso dei soldi, adesso tu sei incinta, la pagherai, che la porteremo via. E come vedo ci sono riusciti molto bene. Oltretutto oggi vengo a sapere che Salvini posta il mio video ed è un fake. Beh, guardi, io glielo consiglio formalmente il fake. Cioè, praticamente qua sopra c'è tutto il girato, ma c'è una cosa in più. Ci sono le registrazioni dove gli assistenti sociali ci dicono chiaramente in faccia noi stiamo e facciamo la legge. Questo è un po' pesante. Ma le dico una cosa, signor Ministro. Dobbiamo sapere che prendendo la cartella clinica all'ospedale perché gli assistenti sociali mi fanno un piccolo giochino. Al fatto Stefania aveva qualche problema. Prendiamo la cartella clinica. La cartella clinica è linda, pulita, ma c'è una cosa di dietro. Ci sono delle mail girate tra assistenti sociali via collocataria ma soprattutto c'è una cosa. C'è un assistente sociale che dice a un ospedale fermate madre e bambino in ospedale che noi arriviamo il giorno dopo. E questo è tutto in mano al nostro avvocato Miraglia che le potrà spiegare per filo e per segno le darà anche i documenti e tutto. Io nel frattempo le voglio consegnare proprio il video del racconto che viene considerato in qui. Però le chiedo una cosa. Io sono 150 giorni che non vedo mia figlia. Le chiedo. Il giudice gli ha obbligato a farci vedere la figlia ma queste persone, nonostante tutto il giudice gli dica di vedere la bimba immediatamente non rispondono. Non rispondono neanche l'avvocato. Gli assistenti sociali del Polo Oeste sono state denunciate, questa cartella e questa fornata e sono solo loro due. Non rispondono non sappiamo che la bambina. L'ultimo sfogiorno è stato quel trauma irreparabile. Cosa facciamo a lei? Cioè, può assaltare lei perché loro ci dicono che loro sono la legge e se la legge c'è qualcuno potrà sentire controllare dove è mia figlia. Togliamo il potere e la legge a queste donne. Potrà fare la legge a queste donne. Grazie. Torna a casa perla! Grazie a Stefania e a suo marito. Adesso Maria Giorgio e poi Panelli. Grazie. Allora, dovrà di essere veloce. Io sono la mamma, qui è stata tolta la bambina otto anni fa, all'età di quattro anni e adesso ne ha dodici. Solo per garantire la digenitorialità. Ora, va bene, garantiamo la digenitorialità, ma lei, ministro, mi ha detto di essere qui, c'è detto di essere padre, è stato di voler dire vedere la propria figlia ogni 30-50 giorni. Io le inviterei a uno di questi incontri per capire di che cosa stiamo parlando. Per poi, signor Silvio, allora, se lei gli dica con il padre della bambina, voi noi siete confituali, perciò avete qualche problemino, andate a diagnosi pure e fatete aprire una cartella clinica, ovvero ex-manicomio, perché se siete confituali avete dei problemi. Nel frattempo noi troviamo la bambina, bambina considerata sequestata in casa. Ministro, mia figlia, si faceva 5 mesi di mare, da maggio a settembre, potrà essere sequestata in casa. Direi che non frequentavi i parchi, quando caratteristiche si possono confermare che frequentavano solo quelli della città, ma anche quelli di dentro. Io lavoro in ospedale, ci lavoro da 6 anni, io sono controllata da un medico, un medico legale, che attesta che io posso togliere la mia mansione, in un reparto intensivo. Qual è il motivo per cui mia figlia deve vivere tutto questo? Tre famiglie a fido, sballottata come un pacco postale. I sordi. Perché se mia figlia cade e si fa male, non viene portata al pronto soccorso, non viene visitata da un pediatra. Perché? Scusi la nostra emozione, ma lei capisca, sono 8 anni che viviamo questa situazione e poi ci ritroviamo un mopping da paura fatto da servizi sociali. Tra l'altro io vorrei sapere perché non riusciamo ad avere un contraddittorio. Perché io quando mi rivolgo al servizio sociale e dico io voglio cambiare il servizio sociale e rivolgermi altrove perché non trovo il posto operato corretto, questa cosa mi viene rifiutata. Anche se per lei io la potrei fare. Perché non è un contraddittorio. Sono parenti, sono amici. Cioè, com'è possibile che nella stessa struttura lavorino marito, moglie, parenti, sorelle? Brava! 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 E' un altro polo. Sono due sorelle che gestiscono il servizio sociale, ma come è possibile non dovrebbero lavorare nella stessa unità, nello stesso polo. Scusi la mia emozione, ma è davvero grande. Io sono stata sequestrata in mezzo alla strada con 15 tra i carabinieri e polizia municipale. Mia figlia aveva 4 anni. Lei ha un'idea di quanto posso aver vissuto mia figlia? E dico, io rivedrò la mia figlia tra 42 giorni. Venga ad un incontro. cosa vuol dire vedere una figlia? E questo io non ho per determinare, non fa giusto di sostanzi stupefacenti o il lavoro, una casa. Perché? Per la PAS, con un tipo della PAS. PAS. mi rendete conto che cosa vivono questi poveri bambini sulla loro pelle? Io ho rivisto mia figlia dopo 22 giorni, a 4 anni era non nicolata, sulle mie gambe, non riusciva a danzare la testa, aveva una tatticattia come ho io in questo momento. Non riusciva a parlare, non riusciva a guardare, una bambina tranquillissima, serena, brava. Sto riusciando da avere spiegazioni. Grazie Maria. Grazie Maria. Io ho presentato una ministra veramente per fortuna, quindi mi diciamo che devono essere veramente sintetici. Adesso Claudia Bezzani. ha conosciuto allora io praticate, a me hanno tolto il mio figlio, il nostro figlio Luca Salabardo, assistenti sociali di correggio in unico unico con dei falsi e gli assistenti non sono neanche mai i miei figli sono come era la casa mi hanno dato la 403 a mio marito di serbi gli ha fatto un anno e mezzo di spositività a farsi delle urine sì ho denunciato sì ma perché a me hanno fatto il test l'assido falso infatti ho fatto le urine nell'ospedale cardi quindi era negativo certo anche tutto unicamente non so loro sempre è stato così che mi ha portato il mio figlio salabardo e dopo ce l'ho potuto vedere per tre giorni dopo che mi hanno necessito e farcelo vedere almeno l'ho visto dal vetro solamente dopo quando ho aperto gli occhi e tanto che glielo mi ha portato io per un mese mentre ho fatto la famiglia che erano una sua caita e dopo noi siamo andati alla porta d'appello la porta d'appello si è dissociata da quello che hanno fatto e non c'è il popolo che non c'è senza neanche mai gli artisti conosciuti niente che hanno dato la mamma di mio marito che sta montagnana e anche lì è un casetto e anche gli assistenti sociali di montagnana Bruno e Roberto e anche lì ha scritto adesso una reazione falsa falsa con tutte le cose d'azione che non abbiamo perso fatto e c'è un altro in pratica agosto e settembre no attorno e novembre si poter vedere il nostro figlio che lo mese per un'ora adesso per un'ora con l'unitatore sempre presente cioè ministro se io non se chiede a me sono finta di se lei può aiutarsi a corretta e noi adesso della fedio sono in mezzo di queste persone che anche loro non hanno visto c'è un danno enorme però veda signor ministro per questo se riuscite a cambiare queste leggi più che altro a vedere bene cosa cosa cazzo fanno no c'è perché tutto fa c'è un messi qui c'è la mattina il l'unitatore che sta denunciando nel tribunale minorile anche loro c'è fanno sapere che ci può secondo me lo stanno sentendo pure in diretta non leggono realmente non vedono non vado perché c'è la situazione reale insomma c'è il vincito se vita l'ha conosciuta insomma è nostra figlia io vita noi scusa vita l'abbiamo perché io faccio tre gravi tante assistite che mi hanno accettato controlli normali grazie e io e l'ho partorita a Mirandola che è di Modena non il distretto di Reggio Emilia corretto l'ho partorita e io ho fatto il programma per gli assistenti sociali c'è detto accetto tutto la casa famiglia accetto tutto che fanno anche giudice cazzo e Kitti e Daniele Kitti di Bologna si è stupito perché non ha detto applauso ma è possibile che tu hai chiesto una casa famiglia ho detto guarda che giudice cioè io l'ho chiesto chiedere in maniera perché se no veniva lì portando via Rita e comunque ho fatto la casa famiglia e ci sono scappate con l'avvocato Lauser e mio marito con l'ernia al disco una gravissima perché le case famiglie ragazzi è un lavoro da mattino cioè le comunità alla fine non sono niente confronto le case famiglie perché l'agri è meglio purtroppo è vero proprio e comunque il ministro come vede io io ce l'ho e con noi e Luca mi stiamo pagnando il nostro figlio c'è lì che è senza suo fratello cioè noi stiamo facendo di tutto io gli ho denunciato che hanno tre che si denunce penali in tribunale che tutto di falso in atti danno esistenziale sottrazione perché tutti i motivi neanche provati a rapimento tutto però lo sapevi il corso del tribunale cioè dopo dieci anni viene forse vista forse però insomma noi cioè noi speriamo davvero che ci aiutiamo grazie 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 a tutti gli onorevoli presenti e cerchiamo un attimo di riportare le cose a un livello diciamo così secondo me è accettabile per poter parlare agli istituzioni e si è scaricata la batteria io sono eh